Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sulla Lucha Assaini. Oggi edizione straordinaria dell'Among Us News. Infatti sono passati pochi minuti dalla fine della Direct Nintendo dell'Indie World perché per chi non lo sapesse l'Indie World è una presentazione dove vengo presentati ovviamente tutti o più o meno i giochi di terza parte in arrivo prossimamente su Nintendo Switch. Alla fine di questa presentazione è successo un qualcosa di inaspettatissimo che è assato sia a molti fan sorpresi sia a altri delusi e iniziamo subito. Nemmeno stia a girarci intorno e dice straordinaria dell'Among Us News che cosa avevano annunciato. Among Us per Nintendo Switch. La cosa mi ha piacevolmente sorpreso anche perché sulle altre console ossia PS4, Xbox One, PS5, Xbox 6X non è disponibile Among Us e quindi sarà un'esclusiva temporanea per Nintendo Switch. La cosa sarà un pro e un contro probabilmente per chi ha console perché per avere Among Us deve forci avere ovviamente il Wi-Fi appresso quindi per chi come me ha una camera con la connessione via cavo deve sempre portarsi dietro un hotspot e questo può essere un grande svantaggio e questa avesse Switch ma dobbiamo conviverci. Ora andiamo ad analizzare i 3D per vedere un po' anche i comandi. Nella scena di voto dell'impostore vediamo in alto a destra un simbolo della chat con sotto il pulsante R quindi questo significa che ovviamente useremo il pulsante R per ricorrere la chat insieme alla tastiera incorporata della Nintendo Switch. Le opzioni si accederanno con il pulsante più e nella mappa con il pulsante ZR. Qua vediamo che per riportare i corpi bisogna utilizzare il pulsante Y mentre per aprire la tendina delle task bisogna appicciare il pulsante R non ho da dire sui comandi per il momento allora qua appare un po' una magagna ossia dobbiamo navigare un cursore con lo stick analogico allora questa cosa non so se modalità portate può essere rimpiacciata con i touch ma non la ritrovo una modalità comoda potevano fare di meglio sotto questo aspetto quindi qui vediamo che si può utilizzare appunto questo cursore navigato stick analogico per svolgere ovviamente varie task e anche ovviamente per i sabotaggi fermiamoci ora su questo frame dopo aver fatto il sabotaggio vediamo le icone del kill, del sabotaggio e del report vediamo che per killare le persone bisogna appremmere il pulsante A mentre per utilizzare il sabotaggio bisogna appremmere il pulsante B lo stesso vale per il comando USA quindi per attivare i task dovremmo premere il pulsante B tra l'altro Among Us per Nintendo Switch usia nel corso della giornata quindi io credo verso le 7 ce lo sforneranno e niente ragazzi questo era tutto ciò che avevo da dirvi su Among Us per Switch ovviamente io avendo un telegiornale di Among Us tra virgolette che non è un vero e proprio telegiornale mi sentivo in dovere di fare subito questo video perché se no sarebbe stato un po' strano farlo sabato e Among Us sarebbe annunciato martedì fatemi sapere cosa pensate qua sotto i commenti e se lo voleste anche per altre console iscrivetevi al canale e attivate la campanella dei notifichi che rimane sempre aggiornati sui feed dei video seguitemi su Instagram, link in descrizione lasciate un bel mi piace e ciao Ciao